La grandezza di Padre Pio sta in questo. Padre Pio pervade tutte le categorie di persone, anche le più impensabili, tutte, anche quelle che dicono di non essere credenti. Ma il segreto ancora più profondo sta in questo. Affidiamoci a Lui, a Lui, guardando il suo volto per vedere il volto di Gesù. E allora anche noi come Alda potremo varcare la soglia del Paradiso. E sapete cosa ha detto Padre Pio? Soltanto quando l'ultimo figlio e figlia spirituale dei miei figli spirituali avrà varcato la porta del Paradiso, allora varcherò la soglia ed entrerò anch'io. Questo ci dia grande speranza, questo benedica le nostre intenzioni e ci rafforzi nella nostra fede, speranza e carità.